bello a tutti ragazzi bentornati sul mio canale qui è il IED e oggi siamo in un video vlog per questa settimana il parliamo di salta perché questo argomento mi preme abbastanza portarlo sul canale perché è da un paio di giorni che ci sto pensando ho guardato tutte le statistiche precedenti del canale statistiche attuali sono tante ma li ho riguardate e riguardate per arrivare ad una conclusione ormai sono su youtube da quasi un anno mancano più cinque giorni al compleanno del canale e arriverà uno speciale per questo e vi ringrazio tantissimo che non pensavo sarei mai arrivato a fare un anno di video e ne ho fatti diversi video sono già 140 quasi 150 video e vi ringrazio tantissimo per questo percorso che ho fatto insieme a voi che aumentate di giorno in giorno ma ciò che mi premeva chiedervi è cosa faccio con il canale perché qualche mese fa io ho fatto un video in cui parlavo del fatto che volevo portare video sulla tecnologia e così ho fatto fino ad adesso ho portato video sulla tecnologia ho fatto la serie parliamo di che comunque non è strettamente legata alla tecnologia ma parliamo di è una rubrica che si apre a tantissime cose come vi ho detto all'inizio di quella serie quindi in futuro parleremo anche di tante altre cose che non c'entrano nulla con l'informatica o il mobile eccetera vi ho portato delle recensioni e continuerò a portarle perché mi stanno arrivando comunque altri pacchi e a breve arriverà un'altra recensione su una power bench continueranno ad esserci penso queste questi video ma ciò che vi voglio chiedere voi vorreste tornare ai video precedenti a video come nerd tag come pronto valentino vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione a video come in segreto la serie di cui ho fatto un solo video ma comunque vi è piaciuto moltissimo ecco se volete che io vi porti altri video del genere ditemelo perché quei video andavano alla grande devo dire che quei video andavano messaggi su facebook ok grazie quei video andavano benissimo andavano alla grande devo dire che vanno molto meglio di quelli di adesso e questo un po mi dispiace perché per i video di adesso mi ci impegno moltissimo molto più di quelli passo molto più tempo alla ricerca di tag alle cerche delle parole giuste da dire nel video del titolo della copertina e tutto ciò che c'è intorno però comunque ho visto che i video che vanno più di tendenza e che vengono più visti che vengono visti più volentieri non sono quelli che sto portando io ma sono piuttosto quegli altri è vero che io ho fatto un grandissimo errore con un canale che se avete un canale youtube non dovete mai fare e chiunque mi sta chiedendo dei consigli sui vari social glielo sto dicendo non fate questo errore ossia se scegliete un target non cambiatelo io ho iniziato un anno fa su youtube come game player ho iniziato con minecraft perché avevo la scelta tra airstone o minecraft ad allora e andai con minecraft con la floating island da lì in poi le cose sono cambiate poi ho iniziato a fare video sull'horror poi ho iniziato a fare video challenge quindi un po' più divertente quelli mi sono piaciuti moltissimo poi ho iniziato a fare video un po' serio un po' a caso un po' così poi ho iniziato a fare i video sulla tecnologia circa febbraio per quanto riguarda questo periodo che va da febbraio ad adesso è un periodo un po' strano perché ero molto impegnato con la scuola molto impegnato con alcuni progetti con un sito web con montaggi video che non erano per me ma per la rai e questo mi ha portato a non avere molto più tempo per il canale infatti ho fatto pochi video ciò nonostante mi sono impegnato moltissimo per fare i video sulla tecnologia la decisione sta a voi volete che io porti video solamente divertenti come nerd tag eccetera i gameplay oppure video solamente sulla tecnologia oppure un misto perché sì c'è anche questa terza scelta che vorrei prendere questa ma non ne sono sicuro perché non so se poi si verrebbe a creare confusione all'interno del canale quindi chiedo consiglio a voi ditemelo voi qua sotto nei commenti se volete che faccia comunque video divertenti gameplay e poi quando c'è da fare la recensione sull'oggetto questo si fa come fanno i QDSS quando hanno la recensione c'è il video sulla recensione ditemelo voi qua sotto nei commenti parliamo di comunque continuerà quindi continueremo comunque a parlare di ciò che accade nel mondo della tecnologia non finiranno qui questi video quindi ditemelo voi nei commenti lascio a voi la decisione del futuro del canale e spero che sceglierete una decisione che andrà bene a tutti e che quindi poi il canale riesca a crescere al meglio io come sempre vi ringrazio tantissimo per la visione vi dico di andare in descrizione dove vi lascerò i link dei video precedenti quelli più vecchi a cui facevo riferimento e se non siete ancora iscritti iscrivetevi passate anche dai link di Instagram, Facebook, Twitter, Telegram c'è il canale di Telegram in descrizione cioè se non ti iscrivi al canale di Telegram non c'è nessuno, eh, zomba, eh noi ci rivediamo in un prossimo video ciao